Prima di tutto un consiglio. Se avete contratto il Covid e ritenete che sia venuto sul posto di lavoro, al momento di chiamare il medico per la certificazione, precisatelo che deve fare un certificato non per malattia ma per infortunio. Questo semplificherà di molto le cose con l'INAIL e soprattutto vi tutelerà in caso di patologie post-Covid. Il perché ce lo spiega Giuseppe Visco. Riscondriamo ancora, a distanza di ormai più di due anni dall'inizio della pandemia, i soliti problemi per la gestione di queste pratiche. Il problema a monte riguarda la certificazione del Covid. Molti Covid sono trattati come casi di malattia comune, nonostante debbano essere invece trattati come infortuni. Questo avviene perché il medico curante, invece di inoltrare i certificati di infortunio all'INAIL e inoltre i certificati di malattia all'INPS. Tuttavia l'INAIL ha chiarito, anche con una circolare emessa nel 2021, la cosetta circolare numero 24 del 9 settembre 2021, che qualora un caso di probabile infortunio sia certificato con un certificato di malattia semplice, l'interessato o il patronato per conto dell'interessato può segnalare all'INAIL che quel caso va trattato come un infortunio, quindi inviando che cosa? Il certificato di malattia e nel caso di un infortunio Covid anche l'esito del tampone. e in questo caso l'INAIL è tenuta a istruire la pratica e quindi chiede al datore di lavoro di inoltrare la denuncia di infortunio. Poi è chiaro che se il caso viene istruito può essere un caso di infortunio come può essere un caso di malattia comune. Da un po' di tempo l'INAIL non accetta più i certificati di malattia per istruire le pratiche, nonostante questi casi siano segnalati dai patronati come il nostro. Abbiamo sottoposto anche questo caso alla direzione nazionale perché è una palese violazione delle stesse circolari che la stessa ente emette. Quello che temo è che in realtà ci siano ancora molti più casi di infortuni Covid che sono certificati con certificati di malattia e gli stessi lavoratori sono inconsapevoli. Io invito i lavoratori a verificare se possono far valere il loro diritto. Tenendo presente che avere la tutela INAIL rispetto a quella della malattia IMS ha dei vantaggi in più. L'INAIL dà la possibilità di riconoscere i postumi da Covid e quindi anche di indennizzare eventuali danni permanenti. C'è un lasso di tempo di 10 anni entro cui il lavoratore può chiedere un aggravamento degli infortuni e un riconoscimento. Noi abbiamo avuto diversi casi anche trattati inizialmente come malattia, però c'è un termine entro cui poter fare questa cosa qua ed è di tre anni da quando è stato contratto il Covid.